Presidente Lucio Fusaro, siamo qui in Torre Allianz per la presentazione ufficiale della squadra per la nuova stagione, una presentazione in grande stile per un anno che segna l'importante approdo della società all'Allianz Cloud. Che stagione sarà? Beh, questa stagione immagino che sarà fantastica, ma cominciamo dalla giornata di oggi che ce la vogliamo godere fino in fondo. Ovviamente noi non abbiamo grande merito, il merito c'è dall'Allianz che ci ha ospitato in questo posto fantastico e trattandosi di una delle società più importanti del mondo è evidente che ha fatto le cose in grandissimo stile. Noi, per contro, saremo impegnati a onorare questa maglia e a onorare il nome Allianz nell'Allianz Cloud che finalmente è diventata la nostra casa. Per quanto riguarda la stagione, io immagino che la stagione ovviamente sarà una stagione difficile, tutti si sono rinforzati, partirà domani in anteprima la nostra partita in diretta Rai, quindi sabato o domani, e poi il campionato comincerà domenica. Poi vedremo come andranno le cose, perché ovviamente si dice che i campionati si perdano d'inverno ma si vincano in primavera. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un giorno di ritorno fantastico che siamo arrivati al quarto posto a pari merito con Modena. Ecco, io immagino che con il nostro baggio e le nostre cose noi ci giochiamo un campionato che dovrà essere all'altezza di Milano, ma allo stesso tempo un campionato di attesa e di programmazione per le stagioni successive. Non si è parlato solo di sport, si è parlato di tanto altro, di progetti, di iniziative sociali, di valori. Quali i valori caratteristici di questa squadra che legano la società con Allianz? Io direi che questo è un momento in cui quando si parla sempre di valori, tutti parlano di valori e poi bisogna metterli in campo. Io non so se quello che abbiamo messo in campo noi oggi può essere definito un valore, ma noi certamente, al di là dell'aspetto sportivo nel quale posso fare poco, 40 anni fa andavo in campo, adesso posso fare fuori. Io ho cercato di mettere insieme un progetto e in questo sono stato condiviso dalla Fondazione Umanamente di Allianz, che, o per la verità, io ho condiviso la loro opportunità, che vedrà al centro del nostro lavoro, fuori dal campo, un servizio per Milano legato agli oratori, legato alle scuole, legato alla disabilità, legato alla salute, legato al futuro, legato all'ambiente. Ecco, queste cose si concretizzeranno in operazioni prima della partita, dove noi avremo un concetto che si chiamerà Volley for All, e questa è una cosa molto bella, dove la pallavolo per tutti significa anche per coloro i quali di solito non diventano due metri e mezzo e non diventano campioni. Grazie.